Abbiamo organizzato come associazione questo convegno, è la seconda edizione che viene svolta in Padova in collaborazione con l'amministrazione comunale, in particolare l'assessorato all'ambiente, l'assessorato al commercio per far conoscere questo prodotto particolare e importante delle nostre amiche api. Ci sarà un mercatino dove i nostri soci esporranno i loro prodotti, non solo miele ma tutti gli altri prodotti dell'alveare che sono le creme a base di cera, sono la propoli, sono le pappe reali è un mondo particolare ricchissimo. A lato del mercatino organizziamo anche un convegno in modo dove parlerà la professoressa Tubetti dell'Università di Udine, un erborista che illustrerà le proprietà organolettiche e terapeutiche del miele e degli altri prodotti. Questo perché ci sia conoscenza oltre che il consumo consapevole. Ecco, c'è da dire anche che poi è prevista anche la vendita dei prodotti e c'è anche un'iniziativa benefica, diciamo così, no? Sì, come associazione abbiamo ritenuto di aderire all'iniziativa proposta dal Presidente della Regione del Veneto a favore delle popolazioni della riviera del Brenta colpite da un ubifragio di luglio di quest'anno e abbiamo deliberato, tutti i nostri soci hanno deliberato di devolvere una percentuale delle vendite più poi altre donazioni che raccoglieremo sul momento, devolverle per questa importante iniziativa.